Questo è un boccottaggio, questi sono più stretti, di Modugno a Bel Tempo Si Spera. Uno, due, tre. Scusate ragazzi, ma naturalmente, perché te ne scappi, che ti fai paura? Mi metto paura, non è che ti metto l'ansia, no? Sì, andiamo in pubblicità, giusto? Sì, signori, tra poco faccio il presentatore, scusami Lucina. Potete togliere da mezzo, Lucina, 11 gennaio, è 11 oggi? Spero, però non è gennaio, ma io posso vivere così, con questi che mi minacciano? Chiudi, 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 tutto quello che vedete non ci sarebbe senza queste creature, dei sireciani. Valterino, dammi sto caschetto, non ti preoccupate, conosce tutto il mondo. Ci sono cento milioni di telespettatori ogni mattina, quale sarà mai il problema? Fabrizio, finalmente. Bravo, Salvatore, bravo. Questa roba la vedete qua e non la vedrete mai più. La vita è bellissima. Ci vediamo domani. Uno, due, tre, via.